Salerno tra le nove città italiane, medie e grandi, che sperimenteranno la telelettura dei consumi idrici del gas. Al via, da ottobre, il progetto di Salerno Energia Distribuzione e Salerno Sistemi, per ora in via sperimentale, di Smart Metering, promossa dall'Autorità per l'Energia, che ha selezionato sette progetti pilota di telegestione e multiservizi. Oltre a Salerno, anche Reggio Emilia, Parma, Modena, Genova, Verona, Bari, Torino e Catania, oltre da alcuni centri minori. A Salerno saranno coinvolti nella prima fase sperimentale 1.200 utenti scelti in base a precisi criteri di rilevanza statistica tra le 11 zone nelle quali è stato suddiviso il territorio del capoluogo per testare l'affidabilità del progetto, realizzato praticamente da Business Solution e dalla spin-off dell'Università di Salerno Spring-Off. Proprio i ricercatori dell'Ateneo hanno realizzato le apparecchiature che saranno installate sui contatori idrici, mentre sarà necessario sostituire i misuratori del gas. I dati saranno poi inviati ad appositi concentratori, sempre studiati dall'Università, via radio, con la banda a 169 MHz destinati ai servizi pubblici. Anche l'utente potrà accedere per vedere i propri consumi, quindi è un sistema integrato che è un passo verso le smart grid, verso le smart cities. Se dovesse funzionare questa sperimentazione, l'idea è quella di estendere tutta la rete? Sicuramente lo estenderemo alla rete, lo faremo in varie tappe, perché capirete benissimo che è una platea piuttosto ampia, dove i vantaggi quali sono? Innanzitutto non si accederà più agli immobili e quindi si farà un controllo senza recare nessun fastidio agli utenti, si avrà la possibilità di effettuare anche la fatturazione sui consumi effettivi, non più su dell'estimo, su dei conguagli e soprattutto poi si avrà la possibilità da parte del cliente, dell'utente, di monitorare i propri consumi e quindi entriamo in un discorso anche di utilizzo intelligente delle risorse energetiche. Il sistema potrà essere associato anche ad altri servizi come assistenza agli anziani e parcheggi coinvolgendo Salerno Solidale e Salerno Mobilità, oltre che Sinergia, l'altra municipalizzata, per la gestione a distanza della manutenzione degli impianti termici comunali.